Cioè ogni anno dobbiamo parlare di stessa storia, ma come si fa? Scusate ragazzi, buongiorno a tutti. Ecco, buongiorno a tutti ragazzi, bentornati a Dario Sostanero. Cioè io ogni anno, anzi ogni due anni, ogni tre anni come un'evoluzione e siamo voluti da capo. Tutta la pandemia che c'è, no, noi siamo da capo. Madonna, Madonna. Madonna. Allora, di cosa mi tocca parlare? Di cosa mi tocca parlare che poi, ah è vero, scusatemi, che poi mi dimenticavo. Ragazzi, allora, innanzitutto, di cosa sto parlando? Sto parlando di Gigi Donnarum. Scusate, in assoluta stanza, poi mamma mia, lo so, è uno scandalo, però fuori c'è un suolo talmente forte che non riesco neanche a registrare. Ragazzi, io sono incazzato come una bestia, ve lo dico brevemente. Perché, cioè nel senso, va bene tutto, va bene tutto quello che volete, ma questa roba di Rai, la Donna Rom, no, 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 non va bene. Non va bene! E io non faccio video, ma dobbiamo parlare di rinnovi. Oggi si parla di rinnovi, ragazzi, perché è importante. Poi vi lascio qui sotto, anzi qui da questa parte, più o meno, vi lascio in prospettiva l'annuncio, ve lo lascio, appunto, le frasi proprio identiche, come stanno. Allora, il discorso quale, ragazzi? Il discorso che mi fa incazzare è che perché Gigi Donnarum adesso sembra che sia di nuovo il problema, no? Allora, fatemi capire. Allora, sembra che Raiola voglia fare un contratto per due mesi, cioè per due anni, scusate, poi mesi, ma no, se fosse, quello è capace anche due mesi, ma no. Quello sarebbe capace, non escludo neanche questa ipotesi. Ho sparato una suonanzata, ma è possibile, visto come Raiola ha fatto, perché il signorino Raiola vorrebbe 10 milioni. Milano non gli darà mai 10 milioni di contratto, per carità. Ma, anche se fossi io, glieli darei. Ovviamente, se non fossimo in situazione di pandemia, ragazzi, se non scherziamo. Ragazzi, siamo in situazione di pandemia, ragazzi, e noi stiamo a pensare a cosa? Cioè, scusate, fatemi capire questa cosa. Cioè, noi stiamo qua a pensare a rinnovare Gigi per 10 milioni, perché sono state fuori delle voci come, appunto, l'Eventus vorrebbe Gigi Donnarum, ma come ogni anno esce. Anche se io vi dico la mia, io a queste stronzate non ci credo, non ci casco più, perché non ci credo, visto che due anni fa ha fatto lo stesso giochino suolo, la solita taratella ormai. Ormai mi sono talmente abituato allo schifo che non avete idea, ragazzi. Ormai sono abituato allo schifo, è incredibile, perché Raiola è questo, Raiola è questo purtroppo, non potete mai cambiare. Sì, per il calciatore, certo, e voi mi direte, però, per il calciatore sì, è un ottimo procuratore, però, ragazzi, a livello, io, dal dato che voglio bene al Milan, mi sono rotto le palle. Io ve lo dico brevemente, non ce la faccio più. Io non ce la faccio più questa storia. Cioè, lo sentivo ieri che diceva, cazzo, Longoni, che, appunto, che potrebbe essere che, appunto, Gigio Donnarum, non dico che non rinnovi, anche se poi sono voci, insomma, non pifferano. Però, Gigio, cioè, Gigio mio, voglio che lo fai finita, per favore, te devi farla finita, te sei qua il protagonista, caro mio, Gigio. Io voglio da te che prendi e dici, vabbè, filmiamo, sentite, ragazzi, filmiamo sto maledetto contratto anche per due anni, fa niente, mi sta bene per due anni che ti facciamo un contratto provvisorio, visto che è in situazione di pandemia, anche se tu vuoi prendere, poi il discorso è questo, ragazzi, si parla del terzo portiere, se dovesse venire Mirante, ecco, si parla di Mirante, al posto di Antonio Donnarum, Antonio non fa niente lì, scusate, tanto vale darlo via, quel mezzo milione lo dai, Gigio, e non è che non ti perdi praticamente niente, niente, anzi, gli passi stipendi appunto al fratello, tanto, sempre, sempre in famiglia sono, e non è che con quel milione in più se lo dai a Antonio, Gigio, cambia qualcosa, anzi, già stai lì a fare niente in panchina, ragazzi, c'è, scusatemi tanto, no, poi, c'è, il portiere ne abbiamo, comunque, c'è il secondo portiere, tanto lo sciamo, e, vabbè, anche se dovesse venire Mirante come terzo, va benissimo, dico di no, mi sta bene, non è un problema, anzi, un ottimo portiere, davvero, ragazzi, anche quando era a Bologna che faceva sempre bene, mi sembra, mi sembra ottima come scelta, però è il secondo rimanere sempre tanto, quindi non è che cambia tanto, poi, però, potrebbe servirci, allora, poi, adesso vi dico una cosa, ragazzi, vorrebbe inserire anche dei bonus in questa offerta, adesso non si capisce bene, però è quella, cioè, l'offerta è lì pronta sul tavolo, non è che scherziamo intorno, ma anche soltanto che, insomma, il procuratore di Gigio, si diamo una calmata, perché è questo che aspetto io da lui, io aspetto da Raiola che si dia una calmata, perché io non ne posso più, ma io non ne posso più, ma veramente, ma io non ce la faccio, poi uno si incazza, poi uno si incazza e spacca tutto, guarda, vedi, e poi cade tutto, vaffanculo, cioè, ragazzi, io non lo so, allora, poi stai, com'è che sta questa, mamma mia, che casino oggi, incredibile, vabbè, comunque, ragazzi, no, così, cioè, noi, noi dobbiamo un attimino moderarci, cioè, non è possibile, dai, ma, ma poi, io dico, allora, vi do un'idea, ragazzi, di quello che intendo, anzi, adesso vado, prendo l'articolo, scusatemi un secondo, che prendo subito l'articolo e ve lo leggo, no, perché poi dopo ve lo lascio qua in descrizione, allora, io vi dico, oltre a Gigio, che vabbè, poi parliamo anche di Pessina, un secondo, allora, donare un'altra trattativa si complica, del rinnovo del contratto delle portiere è in scadenza il prossimo giugno, cioè in questo giugno, quindi praticamente Gigio è in scadenza in questo giugno, quindi ammettiamo questo, secondo quanto è riportato la gazzetta dello sport, che lasciamo perdere, il giornale, mamma mia, una roba incredibile, infatti l'assistito di Raiola sarebbe disposto ad accettare un rinnovo di 7 milioni per i soli prossimi due anni, e quindi ragazzi, cioè nel senso, anzi, va benissimo, cioè Gigio è giusto che venga pagato, è giusto che venga pagato, però 10 milioni, caro Raiola, che tu che sei un borghese del cazzo, sei un borghese del cazzo, che pensi soltanto ai soldi, e non alla salute, tu piuttosto creperesti, ma pure avere soldi, beh guarda, sei una roba incredibile, vabbè, altro discorso, Pessina, 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 io riguardavo la Piemontesi calcio ragazzi, quelli di Torino, che non mi ricordo mai come cazzo si chiamano, vabbè, facciamo perdere, che giocavano contro quelli di Bergamo e l'Atalanta, e praticamente Pessina l'ho visto, l'ho visto in campo, ma ragazzi, ma se questo è Pessina prendiamolo subito, anzi, anche perché quando abbiamo preso conti, abbiamo lasciato le nostre tracce su quell'offerta lì appunto, e abbiamo lasciato le tracce su Pessina, abbiamo dato lo scambio giovane Pessina, noi all'Atalanta, tipo una roba che aveva fatto l'Inter con la Roma, con Zagnolo, e abbiamo lasciato 50%, cioè, diciamo, il prezzo ridotto del 50% del cartellino di Pessina cioè, nel senso, Pessina vale 25 milioni intorno, vabbè, 25-23 milioni intorno, comunque se dovessimo prenderlo, in questo momento noi lo prenderemo a 12 milioni, attenzione e adesso farò un piccolo collegamento a quello che ha fatto il nostro fratello Rosso Nero stamattina, o meglio, sì, stamattina era più o meno, mi riferisco appunto a Self Sport, a Domenico comunque andate a seguire, mi raccomando, andate a seguire Domenico, Self Sport, si chiama Self Sport ragazzi lo trovate, se no, poi io non so perché scrivo Self Contro, quando l'ho cercato, infatti mi chiedo ma scusa perché, poi ti scrivo fratello, poi ti scrivo, a proposito, così ti mando anche il messaggio a te ti scrivo, che so che mi guardi tutti i video comunque, sei un grande, grande, grande Domenico cazzo comunque, ragazzi, allora, il discorso è questo, Pessina, allora, io vi dico la verità se dovessimo prendere Pessina, perché magari stavo pensando, se Diaz dovesse andare via perché Diaz comunque non è detto che venga riscattato anche, anzi, si sta sempre complicando questa storia qua come se si è scritto dove c'era un altro, potrebbe andare bene Pessina, ragazzi cioè, anzi, scusate, se abbiamo tanto, se abbiamo, scusate, se noi abbiamo il 50% del cartelino a disposizione in questo momento, cioè paghiamo il suo cartelino la metà, perché non prenderlo? perché non prenderlo? anche perché mi ricordo con quello che ha dato appunto a Self Sport, ragazzi, che ha fatto un video stamattina interessante sugli ingaggi, insomma, una roba incredibile, abbiamo preso ben a sera 16 milioni ora ne vale 50, una roba così, una roba fole te ne vale 60, abbiamo preso 20 milioni per farvi capire proprio il mercato che fa Madini che fa un capolavoro cioè, cacchio, ragazzi, è questo, anche Liverpool, mi viene in mente Liverpool è l'esempio più semplice ha fatto una roba di stesso genere, un mercato di stesso genere cioè, prima di Liverpool che vincesse la Champions League, c'è stato ovviamente dietro un percorso perché la Champions League non la vince a caso, quello è ovvio però c'è da dire anche che sono stati dei ragazzi con la pancia vuota che hanno ancora in presente voglia di riempire la loro bacheca non giocatori fermati, attenzione quindi un Auge, un Selemaker, vanno bene, vanno benissimo però, secondo me, a destra c'è da aggiungere qualcun altro tipo un Douglas Costa, vi do un esempio tipo, non lo so, ragazzi, in alla destra, sì, chiesa andava bene però lasciamo perdere chiesa, questo è un altro discorso quindi, io vi dico, se dovessimo prendere Pesina, ragazzi, sarebbe bello a fare eh, io lo dico, qua lo dico poi mi sbaglierò, però io ci metto la faccia e secondo me Pesina, se dovesse venire a Mila, farebbe bene mi sembra anche un ragazzo molto educato, molto composto, si comporta bene e nelle confezze stape non dice mai una parola fuori luogo mi sembra un po' quel modo di fare di pioli quindi, no, non mi dispiacerebbe, anzi mi sembrerebbe se dovesse venire a Mila, mi farebbe piacere perché davvero mi piacerebbe vederlo con la maglia rosso-nero di, eh, ragazzi, insomma detto questo, ragazzi, ci sentiamo giorno prima della partita che faremo le formazioni, quindi non è che faccio più di tanti video ragazzi, sono le solite cose che si dicono in giro poi vi riporto le cose fondamentali quelle che volete sapere, la mia, se no che cosa venite qua a fare detto questo, ho già fatto 11 minuti di video mamma mia, è già lungo, vabbè detto questo, ragazzi, vi rimando un appuntamento al prossimo video ciao ragazzi